19 dicembre. Il vin brulé. Il vin brulé è una bevanda calda a base di vino caldo, zucchero e spezie aromatiche. Lo puoi gustare ai mercatini di Natale e anche alle feste popolari durante il periodo invernale. L'arancia, le stecche di cannella, le bacche di ginepro, l'anice stellato, i chiodi di garofano. La ricetta del vin brulé. Per preparare il vin brulé per quattro persone prendete una pentola d'acciaio e mettete dentro tutti gli ingredienti. 100 g di zucchero, 2 stecche di cannella, 5 bacche di ginepro, 8 chiodi di garofano, un anice stellato, un pizzico di noce moscata, la scorza di un limone e di un'arancia e alla fine versate un litro di vino rosso corposo. Mettete la pentola sul fuoco e fate bollire. Mescolate e lasciate cuocere a fuoco dolce per 5 minuti. Lo zucchero deve sciogliersi completamente. Avvicinate una fiamma al vino e date fuoco, ma attenzione a non scottarvi. La fiamma si deve spegnere da sola. Filtrate il vostro vin brulé attraverso un colino a maglie fittissime e servite. Grazie a tutti.